Il Teatro Valle è un luogo a cui una parte della città è molto affezionata, è un posto bellissimo che per troppo tempo è stato lasciato a se stesso. Ha aiutato nel corso degli anni a sopravvivere grazie a un'occupazione che però aveva i limiti dell'occupazione, è stato poi abbandonato per oltre due anni dall'amministrazione comunale che non hanno avuto la forza di far cominciare i lavori per rimetterlo in sesto. Noi superando non pochi ostacoli tecnici, amministrativi e anche finanziari siamo riusciti a far partire i lavori, la prima parte dei lavori. Ci vorrà un po' di tempo per rimetterlo a posto appunto perché le nuove norme di sicurezza richiedono delle trasformazioni importanti e non bene vincolato non sono facili, però l'abbiamo ripreso in mano e abbastanza presto tornerà un po' alla volta a disposizione di tutti e di questo siamo contenti.